C'è stato un attacco da parte di Mauro Febbo nei confronti di Nazario Pagano e proprio di Daniele Damario dicendo ci sono le elezioni, ci sono state le primarie del centrodestra, Francavilla non ha presentato nessun candidato e su questo silenzio si pensa male. Ma io ritengo che Forza Italia oggi è un partito che ha bisogno di tutto, meno di queste stupide polemiche che fanno in un momento delicato il nostro partito. Voglio dire, invece di goderci questa splendida giornata in cui circa 9.000 persone del centrodestra si sono recate sotto una giornata di pioggia intensa alle urne per scegliere il proprio candidato, si sceglie di fare stupide polemiche. Entrando nello specifico, come Forza Italia noi avevamo delle direttive precise, c'eravamo imposti delle direttive precise cioè laddove era possibile candidare i capigruppi in Consiglio Comunale di Forza Italia. È stato così a vasto con Gian Giacomo, mentre a Lanciano e Francavilla i due capigruppi hanno ritenuto che le primarie non fossero uno strumento utile per la selezione del candidato, nello specifico parlo di Maglio d'Ortona e di Franco Moroni. Sono stati presentati altri candidati, vorrei ricordare che Mantini, è vero che in Consiglio Comunale si è in una lista civica, in un gruppo in una lista civica, però è un iscritto di Forza Italia, quindi nulla di nuovo. Volevo solo ricordare che quando forse i segretari provinciali del partito erano altre persone, evocare la parola primaria si rischiava quasi il linciaggio. Oggi si fa polemica contro di me, coordinatore provinciale, che non solo le primarie le ha autorizzate, ma addirittura le ha organizzate personalmente, quindi polemiche stupide di cui questo partito non ha bisogno.